Bentornati a tutti sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco Gelmini e questo è Roots of Strength. Oggi parliamo di schiena sia in ottica di recupero e prevenzione di infortuni sia in ottica anche di robustire effettivamente e far diventare più forte la nostra schiena. Quando cominciamo ad allenarci in palestra e a spostare pesi una delle preoccupazioni che ci viene presentata possiamo dire molto presto è il rischio di farci male alla schiena durante i movimenti che andiamo a fare. Sicuramente più di ogni altro distretto corporeo quando siamo in palestra e questo per svariati motivi perché sicuramente nella popolazione generale è molto alto il tasso di fastidi e problematiche correlate alla schiena, molto di più rispetto ad altre zone, ma non è strettamente necessario che non dobbiamo allenarla o dobbiamo stare sempre estremamente attenti a quello che facciamo. Infatti per la schiena più che per ogni altro distretto corporeo sono state dette un sacco di cose negli ultimi anni e ci hanno portato a pensare che non dobbiamo necessariamente allenarla dal punto di vista non tanto dei movimenti di remata perché quelli sono diciamo permessi se vogliamo dalla comunità del fitness della prevenzione di infortuni e quant'altro però se andiamo ad analizzare tutto quello che è movimenti di isometria della schiena, movimenti a cerniera d'anca, movimenti che coinvolgono appunto attivamente la muscolatura della bassa schiena e tutta la muscolatura profonda che stabilizza la nostra colonna, non si trovano, adesso cominciano a trovarsi ma fino a qualche anno fa si parlava molto poco e si tendeva a dire no cerca di evitare questi movimenti, se devi sollevare una cosa da terra sollevala utilizzando le tue gambe, utilizzando i glutei, non lavorare sulla schiena ma lavora piuttosto su irrobustire i tuoi glutei, i tuoi bicipiti femorali, il resto della catena cinetica posteriore, lavora sulla stabilità addominale perché tutte queste cose vanno a proteggere la schiena, quando la realtà è che la cosa che più di tutte protegge la nostra schiena è avere una schiena forte e che funziona bene, se non andiamo ad allenare certi gradi di movimento o certi movimenti sicuramente naturali e che ci sono anche molto utili, sono funzionali nella vita di tutti i giorni, rimaniamo molto più esposti ai rischi di qualunque cosa ci possa capitare se la nostra schiena non è allenata e non sappiamo fare queste cose, quindi vogliamo sicuramente dare alla nostra schiena la possibilità di diventare forte come la diamo a qualunque altro gruppo muscolare. Difatti per molto tempo ci hanno detto lavorate sugli altri muscoli, irrobustite il resto che protegge la schiena, al massimo per la schiena potete fare dei massaggi, potete fare stretching, potete fare dei lavori molto leggeri di mobilità e quant'altro, di proprio cessione, dei lavori molto leggeri in isometria. Può funzionare fino a lì, può funzionare magari per consentirci di muoverci quando c'è già un infortunio e in quel caso vogliamo affidarci a qualcuno che sappia quello che fa e ci guida in un percorso di ripristino e di riabilitazione, quindi non sempre sono mansioni dedicate a un coach come posso essere io, però magari volete rivolgervi a un fisioterapista o qualcuno che possa appunto capire effettivamente qual è la vostra situazione, se è già presente un danno. Se il danno è sparito e volete tornare a diventare più forti e a prevenire appunto che succedano di nuovo cose del genere, vi invito a considerare quello che sto per dirvi nel video di oggi in cui andiamo a vedere appunto alcuni esercizi che ci possono aiutare a irrobustire la nostra schiena e a prevenire appunto futuri fastidi che altrimenti potremmo avere. Quindi quello che ci serve inizialmente per lavorare sulla nostra schiena e su quei muscoli che non abbiamo mai allenato veramente, che sono molto instabili e poco forti e possono portare a contratture o altri tipi di problematiche. È una panca per le back extension, io non ho una vera panca per le back extension, quindi utilizzo questo pad che si può fissare sul rack e appoggio i piedi su una barra di sicurezza che ho messo qui lateralmente a terra. Se avete una panca per le back extension meglio potete utilizzare in alternativa anche un GHD, il macchinario per i glutein raise, tuttavia lì siete in una posizione orizzontale quindi l'esercizio diventa difficile già da subito, se riusciamo ad avere una back extension circa 45 gradi ci permette di scalare un po' di più il peso, quindi se abbiamo magari subito da poco un infortunio, siamo molto deboli in quella muscolatura, vogliamo avere una regressione dell'esercizio e partire intanto con qualcosa che non ci dia subito tanto carico. Anziché partire con il back extension classico che ci arriveremo, quello che andiamo a fare invece è un lavoro laterale che il più delle volte si vede come esercizio per lavorare sulla muscolatura dei nostri addominali obliqui, quindi tantissime persone lo facevano per assottigliare il girovita, cosa che non funziona necessariamente così ma non è l'obiettivo che ci diamo oggi. Quello che vogliamo fare, ottenere da questo esercizio, è lavorare sul quadrato dei lombi, che è un muscolo molto profondo a livello della nostra schiena, nella parte posteriore, che generalmente tende a essere debole, contratto e a non riuscire a gestire appunto le tensioni che magari vengono create se facciamo stacchi molto pesanti, squat molto pesanti e cose di questo genere. In questo modo lo lavoriamo in maniera unilaterale, mentre negli stacchi da terra e negli squat per stabilizzare la nostra schiena si contrae in maniera bilaterale, quindi entrambi i quadrati dei lombi cominciano a tensionarsi. In questa maniera invece possiamo lavorarlo su un range di movimento più completo possibile. Adesso non mi sporgo più di tanto perché potrebbe spostarmi il microfono, però facciamo comunque una prova. Io personalmente tengo la gamba esterna davanti, l'altra dietro, mi appoggio circa a livello della cresta iliaca sul cuscino e mi allungo giù lateralmente. Adesso potrei anche giocare sulla distanza che ho della barra di sicurezza, quindi magari avendo i piedi più indietro riuscirei ad essere un po' più inclinato, però cerco di avvertire appunto lateralmente l'allungamento e a ritornare su. Generalmente questo è un muscolo che dà molti problemi se tende a essere teso, ma più che teso non vogliamo andare necessariamente ad allungarlo e basta, ma a insegnargli a essere forte lungo tutto un range di movimento bello ampio e quando siamo abbastanza allenati possiamo anche lavorare con un sovraccarico che ci aiuta anche ad allungarci e ad arrivare al pavimento più agevolmente, quindi pone ulteriore stretching sulla muscolatura. Gran parte degli esercizi che vediamo oggi vanno fatti sicuramente per un numero di ripetizioni abbastanza alto, soprattutto se abbiamo già qualche fastidio, qualche problematica alla schiena, abbiamo muscoli molto deboli che non abbiamo ancora allenato correttamente. In seguito magari possiamo abbassare un po' le ripetizioni e aumentare i carichi, però partirei intanto con 15 anche 20 ripetizioni per serie e cercherei anche un effetto piuttosto di pompaggio per portare un buon afflusso di sangue a quella muscolatura, soprattutto se è già dolorante. Dall'altro lato stessa cosa, cambio la posizione dei piedi e scendo lateralmente. Cerco bene l'allungamento e risalgo. E questo principalmente va a lavorare sul nostro quadrato dei lombi che molto poco spesso viene coinvolto in maniera così isolata, quindi è una cosa che vogliamo fare se abbiamo delle difficoltà a stabilizzare la nostra schiena o abbiamo appunto delle fitte che magari ci vengono causate da squat e stacchi pesanti. Il secondo esercizio che andiamo a vedere è un molto più classico back extension. In questo modo ci posizioniamo frontalmente sulla panca, possiamo tenere il manubrio in qualunque maniera o partire semplicemente da scarichi se abbiamo dei fastidi o delle limitazioni di mobilità, non riusciamo a eseguire il movimento liberamente. Possiamo partire con delle ripetizioni parziali, però idealmente quello che vogliamo arrivare poi è a muoverci in un range di movimento completo e che sia pain free, quindi senza dolore. E quando sono diventato abbastanza forte posso anche caricare, sovraccaricare il movimento. In questo caso cerco anche, non mi curo tanto di avere la schiena perfettamente allineata, ma voglio avere anche un leggero movimento vertebrale, non voglio che tutto il movimento sia dato da le mie anche che fanno un movimento a cerniera d'anca come può essere in un good morning o in uno stacco romeno, voglio comunque che ci sia movimento vertebrale e che riesca appunto a gestirlo correttamente assicurandomi di avere un carico non troppo pesante per quella che è la mia capacità in quel momento. Quindi questo sicuramente molto importante per tutti i powerlifter e atleti che si allenano veramente pesante con carichi sulla schiena per irrobustirla ulteriormente e portare magari un tipo di lavoro che altrimenti non avremo con i soli squat e stacchi. Un altro movimento molto importante che mi ha aiutato personalmente veramente tanto a recuperare magari da una schiena dolorante alcune problematiche date da un sovraccarico eccessivo, da volumi troppo alti nell'allenamento che mi hanno portato a sviluppare contratture a livello di questi muscoli, è sicuramente il good morning seduto. Tuttavia tra quelli che abbiamo visto finora è l'esercizio in cui vogliamo arrivarci con più calma sulla progressione perché soprattutto nel mio caso è stato molto difficile sviluppare intanto quella mobilità necessaria per avere un range di movimento abbastanza completo gestendo correttamente la schiena come dovrei perché in questo caso è importante anche c'è una grossa componente di mobilità alle anche che è richiesta quindi se non abbiamo quella da subito vogliamo arrivarci piano piano perché sicuramente vorremmo lavorare su un range di movimento completo però se all'inizio non ce l'abbiamo lavoriamo intanto gradualmente fino a dove riusciamo a scendere fino a dove riusciamo a gestire il movimento e poi mano a mano che nelle settimane o nei mesi addirittura perché non è una cosa istantanea ripeto riusciamo magari ad avere un range di movimento sufficiente per arrivare a toccare praticamente con l'addome e con il torace la panca senza troppe senza troppa flessione della nostra schiena in questa maniera quindi in questo caso voglio cercare di rimanere abbastanza neutro con la schiena o comunque avere quello che al mio la mia posizione fisiologica durante il movimento e quando sono abbastanza forte posso anche servirmi di un sovraccarico che può essere un bilanciere sulla schiena un manubrio una kettlebell che mi pone sicuramente una sfida in più nella gestione del movimento e questo altrettanto può diventare un esercizio di irrobustimento vero e proprio non solo una cosa che faccio in maniera leggera ad alte ripetizioni a corpo libero ma posso fare anche con carichi abbastanza alti vogliamo assicurarci comunque di avere i piedi abbastanza avanti perché se ce li abbiamo troppo indietro rischiamo di sbilanciarci e non riuscire a frenare la nostra discesa quindi teniamo i piedi abbastanza avanti abbastanza larghi perché comunque ci sarà anche una componente degli adduttori che lavorano vista la posizione ci aiuteranno a estendere poi le anche quando ritorniamo su e possiamo lavorare veramente in tante maniere anche con un sistema ai cavi se vogliamo con degli elastici qualcosa che non solo ci tira in basso come può essere un peso ma ci tira anche leggermente avanti in modo che possa dare anche un effetto di allungamento sulla nostra schiena che magari per alcune persone può essere percepito come benefico e rilassante tra virgolette comunque ci tengo a precisare che se siete infortunati in questo momento non prendete magari da subito questi esercizi come oro che cola ma rivolgetevi a un professionista che sappia appunto indicarvi qual è la strada migliore per riprendervi dal vostro infortunio e poi in seguito se questa viene ritenuta una cosa che può essere utile nel vostro caso implementatela nei vostri allenamenti e utilizzatela per prevenire ulteriori infortuni bene ragazzi ora avete tre nuovi esercizi per diventare sicuramente più forti e a prova di infortunio spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile io vi invito come al solito ad iscrivervi al canale a lasciare un mi piace un commento condividete il video se vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video e noi ci vediamo nel prossimo video